Comando patuglia 1 Spieghi file? File? File, stasera il file Vediamo I fogli stanno in me Non è che devo andare a vedere nel cestino? Comando patuglia 1 Nel cestino devo andare a vedere? Non sono sopportato le nuove polizie Chi vi ha comandato? Comandato Com'è che non riesco a stampare? Cos'è? Non riesco a stampare Devi dare il tempo che il computer vede la stampante Vede la stampante? Sono due anni che stanno l'un di fronte all'altro Andiamo a vedere l'un di fronte all'altro Non lo so, di là Non ci sta un po' pronto E per forza, su, se non giri il computer Che lo vede meglio Ancora, ancora, ancora Vedi? Sì, se lo vedo io lo vede anche l'unico Ma poi non vedo io Non devi vedere l'un di vedere l'un di vedere Scusa, è giù Ancora, appena, appena Appena, appena Così va bene Ora si vengono bene Oh Un po' Un po' Un po' Ancora, appena